L'impresa in Italia quanto è donna e quanto l'impatto del covid ha modificato questa realtà? Abbiamo posto queste domande a Sara Catalini, responsabile di CNA Impresa Donna delle Marche. Allora, nelle Marche le imprese guidate da imprenditrici donne sono circa 34.000. Pensate che negli ultimi 12 mesi, per effetto della pandemia in corso, circa 355 imprese non sono riuscite ad arrivare alla fine dell'anno. Di queste, quasi 200 sono imprese guidate da donne imprenditrici under 35. Con molta probabilità avranno sicuramente avuto una difficoltà nell'investire liquidità nella propria attività anche per via della difficoltà dell'accesso al credito da parte di queste realtà. Come CNA abbiamo l'obiettivo nei prossimi mesi di interloquire con regioni, istituti di credito e cercare di coinvolgere anche il nostro confidi unico delle Marche per portare avanti questo discorso e questa problematica. Durante l'assemblea elettiva che è avvenuta lo scorso 12 maggio è intervenuta la Ministra Bonetti che ha garantito la presenza di alcuni fondi, in particolare 70 milioni di euro nel piano di ricostituzione e resilienza garantendo proprio questi fondi alle imprese femminili e alle start-up. Ci sono poi ulteriori 50 milioni di euro destinati invece al miglioramento di alcuni servizi ad esempio servizi per la prima infanzia servizi legati al mantenimento del posto di lavoro delle donne post maternità e garantendo anche l'assegno unico a un maggior numero di usufruitori garantendo quindi sicuramente anche l'utilizzo alle aziende artigiane. Un secondo punto sul quale vogliamo sicuramente soffermarci come CNA Impresa Donna delle Marche è il gap retributivo che ad oggi è ancora presente tra l'uomo e la donna specie in parità di funzioni e di compiti all'interno delle imprese. Come ricordato dalla Presidente Nazionale di CNA Impresa Donna, Maria Fermanelli la situazione sta molto migliorando nelle piccole imprese questo gap è molto presente nelle medio-grandi imprese specie in quelle con organico superiore ai 50 dipendenti dove il divario sfiora quasi il 19% come CNA Impresa Donna delle Marche insieme anche al gruppo dirigente neo-eletto e alla neo-eletta Presidente regionale Patrizia Tiranti sicuramente abbiamo il compito di ascoltare le associate e le imprenditrici marchigiane cercando di creare il più possibile opportunità e sinergie cercheremo di fare del nostro meglio. Con Marco Bilei, responsabile CNA Costruzioni Marche abbiamo invece esplorato le possibilità legate al super bonus 110% La CNA Marche ha voluto dare una risposta alle proprie imprese associate e ai cittadini che intendono utilizzare il super bonus 110% per i lavori di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico Si sono fatte delle convenzioni perché questa misura prevede l'accessione del credito a un istituto finanziario e tra queste diciamo che è molto importante la convenzione nazionale che poi noi abbiamo attuato con una convenzione, con un accordo regionale con Unicredit Unicredit è una banca primaria in Italia e in Europa e sarà possibile per i condomini e per le imprese sia sotto forma di cessione sia sotto forma di sconto in fattura utilizzare questa banca Ovviamente bisogna rivolgersi ai addetti della banca perché una cosa importante che la nostra convenzione prevede è che qualora queste pratiche passino prima per un vaglio di massima da parte dell'addetto della CNA che vede se ci sono le caratteristiche per poter accedere al contributo ci sarà un iter preferenziale per le nostre pratiche Ugualmente importante è la convenzione fatta con il confidi unico il confidi unico è un confidi più importante delle imprese del centro Italia che è partecipato e vede un ruolo molto importante di CNA Marche e il confidi unico è entrato da alcuni giorni nella partita super bonus con il sostegno dal punto di vista finanziario della Cassa Depositi e Prestiti quindi diciamo che è il più importante ente di finanziamenti in Italia il confidi unico opera esclusivamente attraverso lo sconto in fattura perché il confidi unico quindi l'impresa farà lo sconto in fattura del 100% al condominio e poi cederà il credito ottenuto al confidi unico che a sua volta lo cederà a Cassa Depositi e Prestiti sono stati messi in campo dal confidi tutta una serie di prestiti i cosiddetti prestiti ponte affinché l'impresa non abbia mai una carenza di liquidità man mano che il credito verrà ceduto a Cassa Depositi e Prestiti l'impresa otterrà i soldi che a sua volta restituirà al confidi unico quindi un meccanismo che favorisce e sicuramente non penalizza le nostre imprese